con noi su Radio Z, Gaia! Ciao, benvenuta! Bentornata, che piacere, come stai? Piacere mio, grazie per avermi reinvitata, è molto bello tornare in questi studi Complimenti per la giacchetta, ci piace! Grazie, è un po' poco sobria, però avevo voglia di... Insomma, è oggiosa oggi Milano, volevo portare un po' più di... Sei un po' meteoropatica? Tantissimo, non un po' tantissimo, quindi devo ovviamente puntare sull'outfit quando il tempo non mi assiste Facci capire, in queste giornate letto e serie tv, stai in casa perché fai fatica anche a relazionarti con le persone? Allora, no, sto lavorando, quindi mi sto relazionando con le persone Il tempo è brutto, però ho la fortuna di avere delle persone a fianco a cui voglio bene Quindi lavoro con amici, che ormai sono famiglia e che quindi anche quando fa schifo fuori Riescono ad essere coccolosi dentro e quindi tutto si riequilibra Sono fortunata Ma posso dire che chi ha il dono della voce, chi ha la fortuna di saper cantare bene come te Comunque porta sempre un raggio di sole per se stesso e anche per le persone intorno Cioè, secondo me basta pochissimo per farti strappare una risata, anche intonare qualcosa Poi tu hai questo sangue portoghese Ma guarda, nel senso che quando sono triste non è che faccio il musical tipo Hello darkness, smile, friend Non succede proprio così, anzi non canto spesso quando sono con gli altri, anche perché mi sentono già ovunque, tipo per lavoro, è già troppo Sarebbe veramente un livello di ecocentrismo nocivo Però sotto la doccia continuo a cantare sempre Lo sai che noi abbiamo rischiato di farci molto male Causa nuvole di zanzare Perché ci è arrivato questo piccolo cadeau Anzi, ti ringraziamo per questo Pensavamo fosse profumo, in realtà no Noi qua alla reception di RTL 125 riceviamo, anzi grazie da voi, questo piccolo regalino all'uscita di Alma, il tuo nuovo album E aprendolo, veramente pensavamo fosse un profumo Nel momento in cui lo stavo mettendo addosso, poi ho sentito un odore strano Era citronella Tra l'altro, dicevo prima, questo è anche un po' un segnale che i bigliettini non vengono mai letti ma neanche io li a volte li leggo E infatti la citronella è stata scambiata per profumo Però, insomma, comunque è tutto naturale Quindi non succede assolutamente niente Siamo vivi, siamo qui, tranquilli No, sì, sì, poi io alla fine mi sono fermato un attimo In tempo In tempo, in tempo Allora, Gaia con noi fino alle 16.30 Tra poco parliamo naturalmente del nuovo album Alma Adesso ci entriamo ascoltando Ginga con Margherita Vicario e Francesca Michelin Tra l'altro, se non sbaglio, è detto che Ginga e Marina C'è un'altra traccia di Alma Hanno questo potere di alzare l'empowerment femminile? Sono un po' delle canzoni che raccontano la mia relazione con la figura femminile Con me stessa, con anche un po' tutti i lati che mi compongono E Ginga è una canzone che racconta un po' la mia santissima trinità Che è la figura femminile accostata alla spiritualità e alla natura E Francesca e Margherita sono entrate in questo pezzo Con la loro personalissima visione di questo concetto Perché d'altronde la loro persona corrisponde con il loro personaggio Questa cosa è bellissima perché poi c'è una verità dietro qualsiasi cosa che facciano E che decidono di scrivere anche nelle loro canzoni Questo è bellissimo E Marina invece è accompagnata anche da Gem, Gemmy Tides Che racconta questa figura della sua donna come Una dea, l'ho ascoltata Sì, una dea ma una dea soprattutto che è completa con se stessa E che non ha bisogno di essere completata da nessun altro E questo per me è anche il femminismo Quindi un'inclusività e una visione dell'essere umano completa Nella sua complessità a volte È vero che tu sei molto green Gaia So che preferisci se puoi prendere il treno alla macchina Oppure fai un po' di acquisti vintage per evitare di sprecare capi nuovi Non sto facendo shopping da veramente tanto E questa è una cosa che mi rende molto fiera E le cose che compro cerco di comprarle con un'attitudine green soprattutto Quindi se compro qualcosa è perché deve durare nel tempo Prima di tutto E cerco anche di riutilizzare Quindi anche molte scelte di styling che faccio Sono da brand ecosostenibili Che insomma utilizzano e reutilizzano materiali Spesso mi prestano i vestiti Quindi non vado neanche a Insomma a comprare O ad andare contro Diciamo tutti quelli che sono Un po' i meccanismi poco green Del nostro Della nostra società E in più sì cerco di anche nei miei spostamenti Essere un po' più consapevole Bello perché ne parliamo spesso anche qui a Z No? Glasgow Cop 26 Tu siamo molto vicini anche noi all'ambiente Quindi è stato importante dare questo messaggio Anche attraverso le tue parole Gaia Ci sono tante cose di cui chiacchierare Anche di un evento straordinario Che ti vedrà protagonista Città del Messico Adesso Alma Gaia su Radio Z Title track di Alma Appunto il tuo nuovo album Uscito il 27 di ottobre Tra l'altro questa se non sbaglio È anche una sorta di preghiera Più che altro un mantra Sì lo è un pochino Perché è nata in un momento in cui Avevo bisogno di fare chiarezza Con i miei sentimenti Di capire di che cosa dovessi parlare Ed era un momento in cui dovevo ascoltarmi Necessariamente Ed è uscita Alma Come se non fosse quasi mia È uscita un po' a flusso di coscienza Ed è stata veramente terapeutica Come tutte le canzoni che Alla fine cerco di inserire nei dischi Sono canzoni che mi danno la possibilità Di andare avanti con il mio percorso emotivo Grazie anche al sostegno della scrittura E della musica Quindi quando esce un disco Cerco di raccontare in maniera Estremamente diretta e sincera Quello che sto vivendo Ecco Quindi Alma in questo è stata veramente curatrice Senza dire magari che cosa vuol dire Però è interessante capire Se evidentemente questa preghiera Questo mantra Lo ripeti nel tuo quotidiano Cioè ha un significato Ma più che ripeterlo L'ascolto E so che ogni volta che Insomma scrivo una canzone Devo poi Devo poi difendere quello che ho scritto Quindi anche nel mio quotidiano Devo far fronte E rispettare Le parole che ho deciso di Mettermi in bocca Quindi poi certe cose Devo per forza acquisirle Ed è successo Cioè Alma mi aiuta veramente sempre tanto A ricentrarmi A riascoltarmi A capire che in realtà Tutto quello che devo fare Quello che è stato scritto per me Lo sento dentro E lo devo Insomma devo dargli retta E per me Alma è stato questo Senti in questo disco Ci sono delle canzoni in italiano Ci sono anche delle canzoni in portoghese Come è ricaduta la scelta In 40 secondi? In maniera molto istintiva Quindi tutte le canzoni Che sono nate in portoghese Perché in quel momento Dovevo scrivere in portoghese E viceversa Cioè è tutto molto legato Al momentum E all'istante In cui è stato scritto un pezzo Ok non c'è stato Un ragionamento vero e proprio No Però poi analizzando Vedo che Molte canzoni Che riguardano la mia spiritualità O comunque Parole un po' stratte Ma significati immensi Sono spesso in portoghese Anche perché un po' Il mio lato spirituale È stato sempre Ascoltato E forse Recepito meglio In quel contesto Mentre tutto quello Che è un po' più descrittivo Un po' più Anche In italiano In cantautorale In un certo senso In italiano Sono innamorato di te Gaia e Lucen De Yakuza Su Radio Z Abbiamo rivissuto Quel momento bellissimo Di Sanremo Sì Com'è Com'è ripensando Se dovessi avere Così un'emozione di pancia Qual è Più legata Alla gioia Ad aver partecipato O magari Allo stress È stato molto intenso Cioè io il terzo giorno Non avevo voce Quindi sicuramente Il mio fisico Mi ha detto Ok sorella Calmati Tranquillizzati E devo dire che Adesso Che è passato Un po' di tempo Probabilmente Mi sono resa conto Che avrei potuto Vivermela meglio Però È giusto così Perché mi ha insegnato Ovviamente Ad essere un po' più centrata E Ad ascoltare Le mie sensazioni Sì Questi grandi eventi Hanno Talmente tanta aspettativa Che a volte Poi è difficile Goderseli È difficile Anche proprio Stare con se stessi Cioè c'è poco tempo Di ricentrarti Anche banalmente Super Festival Con una line up Incredibile Ci sono i Temi Impala I Twenty One Pilots Pablo Vittar Disclosure Ho visto un po' di Dicevamo anche Forionda Ci auguriamo Che sia Come dire Quasi tutto Libero Da restrizioni Anche se Ovviamente I tempi sono Complicati Anche Messico Del resto Sì Penso che ci sarà L'anno scorso Non l'hanno fatto Quindi non c'è un precedente Ora penso che Insomma Ci sarà la possibilità Di stare Insomma Non seduti Quindi in piedi Tutti in piedi Penso mascherinati O comunque con Green Pass Quindi Si torna Pian piano A piccoli step Alla normalità E poi da gennaio A torcare senza mascherina Pian piano ci arriveremo Bravo Da gennaio Alma Tour Nei club italiani Esatto Magari ne parliamo tra poco Anche perché Tra pochissimo Giusto il tempo Di ascoltare La versione italiana Di Scega Calma Facciamo il nostro game Si gioca Però prima calma Gaia Attenzione Keep calm Come si dice Perché è tempo di giocare A Obbligato E benedicato a te Dedicato a te Che ci permette Di scavare un po' Come facciamo spesso Con gli amici Che vengono a trovarci Nella tua alma Come si dice alma bene? Aum Italo portoghese Quindi abbiamo qua Italo brasiliana Italo brasiliana Abbiamo qua dei tickets Dei bigliettini Devi un po' pescare Vedere cosa esce Dai E che cosa bisogna fare Proviamoci 2,6,6 Digitale Vai 7,3,5 Di Skype Per la radiovisione Stiamo Vai Cosa è uscito? Allora Si Oh mamma Si Si Ricita come se fossi La protagonista Di un film portoghese Brasiliano Svelando a Simone Palmieri Che sei follemente Innamorata di lui È lui È lui Sono io Se non te lo ricordi Allora Simo Si Prova a immedesimarmi Dammi un secondo Abbassiamo un attimo La base Un filo Attenzione Simo Io Acho che Mi appassionei Per você Il mio coração È seu Già agora Adiante Toma cuidado Ti amo Sono diventato rosso Io sono abbastanza Geloso Grazie Grazie Lo rifacciamo pure Per lo zappone Prego Perché andiamo avanti Gaia Comunque Tradotto in italiano Scusami Gaia Cosa hai detto? Perché non l'ho capito Ho detto che Penso che Mi sto innamorando di te Che il mio cuore è tuo E che ti amo Grazie Grazie mille Grazie mille Allora I quattro ingredienti fondamentali Per il bucatino Alla matriciana Quale sarà Perché insieme Quale sarà L'outfit del Corona Capital Forse se ne è tagliato Ah forse Ce ne sono due Ok Quale sarà l'outfit del Corona Capital Raccontacelo in portoghese Assieme al bucatino Alla matriciana Allora L'outfit Non ve lo posso svelare Però sarà molto scenografico E posso dirvi che C'è dell'azzurro Oh là C'è dell'azzurro Perché c'è l'Italia inside Anche Anche sì Peschiamone un altro Vai che abbiamo tempo C'è l'azzurro anche nella bandiera Basiliana È vero È vero Quindi abbiamo questa cosa in comune Alma Quali canzoni di Nina Simone Che avresti voluto scrivere tu? Probabilmente Non vorrei essere scontata Con feeling good Però feeling good Feeling good Sì Ce la facciamo a fare Secondo me è l'ultimo Vai vai In velocità L'ultimissima Ultimissimi Vai 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 Vediamo cosa esce Un dolce tipico brasiliano Che cucini spesso Brigadeiros Oh lo sai che li ho assaggiati Sono una bomba Buonissima No Come si fanno? Sono delle palline al cioccolato O al cocco Con il latte condensato Quindi è tipo una bomba di dolcezza E sono incredibili Le fai proprio tu? Sì Ma è vero che bisogna Non ciò non ve li porto Prometto Tipo in freezer Una cosa del genere Che devono intardurre In frigo In frigo Brava scusa Buono 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 O brigadeiro Brigadeiro E tra l'altro Il gioco si chiama Brigada Quindi Ma tutto torna Mamma mia Il ciclo della vita Abbiamo fatto anche la parentesi Riguardo alla cucina Che non manca mai In collettivo Va bene Torniamo tra poco Giusto il tempo Di svegliare Palmieri Che si è innamorato pure lui State qui Less I know the better Taming Pala Alle 16.34 Siamo un po' rapiti Da questo sound Molto molto piacevole Amo i Taming Pala Sono bravissimi Ascoltateli Perché veramente Andateli a vedere live Cioè live Sono tra i concerti più belli Che abbia mai visto Vedi Spaccano In particolare Come mai la scelta Di questa canzone Che ogni artista Puoi scegli Appunto nella playlist Qui su Radio Z Perché sono tra i miei artisti preferiti Perché li vedrò live Arriva anche al Corona Capitale Corona Capitale il 21 Ci ritroviamo là Abbiamo le domande da parte dei fan Che ci hanno scritto sul nostro profilo Instagram Ufficiale Radio Z Off Ce n'è una Elena Se potessi scegliere un album per il resto della tua vita Quale sceglieresti e perché? Uh che domandone È difficile Un album di altri ovviamente Sì ovviamente di altri Per tutta la vita Oh mamma No è troppo difficile Ce ne sono tanti Però forse per ragioni emotive Perché mi ricordano veramente dei momenti felici della mia infanzia Il disco Better Together di Jack Johnson Quello con Banana Pancakes Lo conosco a memoria E mi ricorda dei bei momenti con mia mamma Quindi probabilmente Senti Gaia Non abbiamo detto che ogni brano di Alma Il tuo ultimo album Ha una parola associata Che rappresenta un'emozione dell'ascolto in realtà E poi c'è anche una collaborazione con Animo Che è l'Associazione Nazionale Interpreti di Lingua dei Segni Italiana Come è nata la collaborazione? Spiegaci in un minuto in realtà che cosa avete fatto È stato incredibile perché abbiamo Assieme appunto ad Animo Che ci è stata vicina dall'inizio Abbiamo potuto inserire queste parole in lingua dei segni All'interno dei loop coreografici Dei video che poi vedete per ogni canzone E è stato incredibile perché Insomma abbiamo cercato di rendere Una cosa che mi appartiene Che è il movimento Per rendere ancora più inclusivo Un po' la fruizione della musica e dell'arte in generale Quindi ringrazio veramente tanto Animo Per averci sostenuto in questo processo creativo E anche di apertura Bello Gaia siamo pronti anche a gennaio Per partire con i live In 20 secondi Hai in mente lo show palcoscenico? Cose che vorresti fare? Sì io ho in mente tutto Devo capire se me lo fanno fare Però io ho in mente tutto E sarà veramente un bel live Noi verremo a vederti Verremo Non abbiamo citato prima di salutarti Ci sono anche Tedua C'è la produzione di Orange Tanti amici e colleghi Ma anche i Selton Che hanno collaborato in una samba italiana Molto divertente Perché questo disco è anche molto da ballare J Lord E tantissimi altri artisti incredibili Sempre un piacere averti qua con noi Ti aspettiamo con affetto In bocca al lupo per Alma Grazie mille Grazie Buon viaggio Buon viaggio Ciao ragazzi Un bacio A tutti